eccomi qua buon pomeriggio buon pomeriggio a voi ragazzi è arrivato il caldo anche se nei giorni scorsi qua da me è piovuto tanto è arrivato il caldo ecco qua questi sono gli ultimi occhiali che ho preso vi ricordate l'altra volta avevo detto va più importante no accennare al video precedente sembra come se mi avete seguito questi qui sono gli occhiali che mi mancavano di quei tre che stavano nel catalogo di Avon e questi qui secondo me sono i più belli fra l'altro sono quelli che mi stanno meglio secondo me col mio viso e con i miei colori sono tartarugati 7,99€ e secondo me per portarli al mare sono perfetti così non rovinate gli occhiali gustosi e quindi questi qui da 7,99€ la lente è molto buona protegge gli occhi dai raggi UV però alla peggio se si prendono un po' di sabbia pazienza non è successo niente alla fine abbiamo speso 7,99€ quindi tipo 8€ adesso ho sistemato tutte le cose qui sopra ma non so eccolo non sto trovando adesso ho trovato il catalogo eccolo qua oggi parliamo di questo mi sono arrivati un po' di pacchi devo fare le consegne e quindi mi devo anche sbrigare a fare questo video perché altrimenti le clienti fanno ma che fine ci hai fatto fare i nostri prodotti li sto utilizzando per fare il video allora urgente questa scala del 30 giugno sono 5 prodotti a 12,99€ doccia schiuma al mandarino questa qui l'acqua di colonia adesso c'è la lavanda da 400ml allora prima nella foto pubblicizzata precedentemente era il limone adesso si vede che quella al limone è finita e stanno mandando questa qui alla lavanda poi abbiamo la crema viso antirughe con fattore di protezione 50 già solo questa vale tutto il prezzo dell'offerta un disinfettante di questi qui spray tipo igienizzante mani quello che volete si può utilizzare anche sulle mascherine e un deoroll questo qui è quello con la durata 48 ore col gusto fresh di questi veramente hanno venuto proprio tanti tanti e considerate che io per esempio non li utilizzo cioè non li utilizzavo ho iniziato a utilizzarli da poco quando ho cominciato a venderli perché dicevo ma se li comprono talmente tanti proviamo anche io che in genere compravo quelli a bomboletta spray invece questi qui devo dire sono molto molto versati allora sono 5 pezzi a 12,99 entro il 30 giugno quindi se vi serve questo assortimento per la casa e per voi fatemi sapere lo levo con di cadenza ci speriamo allora andiamo avanti cominciamo no cominciamo continuiamo a parlare per esempio dello shampoo per quanto riguarda i capelli allora abbiamo gli shampoo questi qui della Avon Naturals sono tantissimi gusti ci sono sia shampoo e balsamo sia shampoo e basta allora per esempio qui abbiamo due campioni questo è all'avocado e questo è dovrebbe essere alla menta praticamente sono confezioni gigantesche sono da 700 ml e considerate che per esempio io con uno di questi a casa ci faccio una ventina di giorni pieni perché siamo 4 però sempre usandolo civilmente cercando di non inquinare tutto il male che abbiamo va bene andiamo avanti per il viso per il viso abbiamo questi pacchettini che hanno fatto questo mese adesso vediamo se li trovo anche qui sul catalogo da farveli vedere praticamente sono degli abbinamenti per la skin care quindi sono tutti piccoli set diciamo a 7,99 euro allora questo qui è il set Suti ed è l'acqua micellare scusate l'acqua micellare da 400 ml e lo scrub micellare in combinata 7,99 euro allo stesso prezzo abbiamo quello che è il mio preferito cioè l'acqua micellare bifasica quella con l'olio dentro quella che ne ho vendute davvero tantissime di queste e l'olio struccante lo struccante olioso praticamente questi sono perfetti per il trucco resistente all'acqua e per le pelli secche o le pelli mature quindi sono anche un po' nutrienti come come tipi di prodotti andiamo avanti allora sempre rimanendo nel tema viso o comunque cura del viso abbiamo l'offerta questo mese delle famose fiale le fiale praticamente rimpolpanti queste qui ce ne sono sette allora questa qui va in combinata con le creme si può comprare anche da sola costa 21,99 quindi 22 euro però c'è l'abbinamento con le creme viso quindi le fiale più una crema viso per varie fasce di età stanno circa 30 euro però dipende perché per esempio con queste antietà queste di oltre 50 anni stanno 29,99 fiale più crema viso 29,28 non mi ricordo poi con le fasce inferiori costano qualcosina di meno però ecco l'offerta è proprio legata a questi tipi di creme queste sono molto buone praticamente ce ne sono sette ma ognuna è abbastanza sostanziosa nel senso io per esempio in teoria loro dicono che bisognerebbe usarla una e basta io però allora se la mettete la sera io per esempio la uso anche sul collo dei coltè e sulle mani quindi devi andare a letto eccetera così poi le mani non dovete più lavarle eccetera e fa bene perché c'è il proteinolo e va bene anche per le mani oppure se la utilizzate per esempio di giorno io faccio così mi sono fatta un cappuccetto di carta d'alluminio se è troppa dopo averla messa sul viso e sul collo la riponete e la utilizzate pure la sera quindi poi ognuno di noi è make up artist e di se stesso diciamo così e queste sono le piale andiamo avanti ah allora vi faccio non mi ricordo se l'ho fatto già nell'altro video comunque ve lo faccio rivedere c'è questo set questo mese che è quello alla fragola secondo me è fragolina di bosco perché c'è scritto wild strawberry dreams quindi vabbè però molto non è stucchevole come i prodotti alla fragola sono di solito c'è sapone mani il bagno schiuma da un litro il doccia crema da 500 ml sì e c'è l'acqua profumata l'acqua profumata se voi avete già il vostro profumo preferito e non ci fate nulla la potete utilizzare anche come profumo per i divani per le tende potete fare un pensierino a una bambina comunque potete utilizzarla come un deodorante per l'ambiente tranquillamente spray allora altro set è questo qui con il profumo dell'estate si chiama infatti aloe amonoi e c'è il bagno schiuma da un litro sempre il doccia crema da 500 ml e qui però abbiamo l'acqua profumata e basta nel senso qui non c'è il sapone mani allora questo set viene se non sbaglio 11 oppa 11 10 99 sì e invece l'altro 11 no ho detto una cavolata allora questo viene 10 euro questo che vi ho appena fatto vedere e quello alla fragola viene 11 99 giusto? quindi quattro pezzi 12 euro e tre pezzi 10 euro diciamola bene bene? e togliamo anche questo set così facciamo un po' di spazio siamo arrivati a un altro set che mi piace tantissimo ed è questo qui alle noci di magadamia praticamente è un set per tutta la famiglia 12 euro il prezzo e c'è la crema viso la crema universale diciamo potete utilizzarla anche per il viso ma è corpo mani piedi quello che volete la crema mani e poi lo shampoo sempre alle noci di magadamia e lo shampoo questo è da 400 ml come questo cremone qui che è sempre da 400 ml e poi c'è la crema mani abbiamo detto è la crema viso adesso vediamo se posso farvelo vedere dal catalogo ci dovrebbe essere la dovrei aver segnata e forse no invece vediamo un po' no 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 sì eccolo qua noci di magadamia eccolo qui vedete? 10 euro e 99 ah ho detto anche di più quindi 11 euro non 12 e questo è per tutta la famiglia e c'è un promo nel catalogo ci sono anche i patch per sentire l'odore beh io c'avevo anche la crema da poter sentire il profumo è veramente veramente buono allora un'altra mia amica ha preso ah no questo ve lo faccio vedere dopo intanto sempre per il bagno schiuma abbiamo questa nuova profumazione che è alla mela verde però non è nauseante o stucchevole come sono spesso i prodotti alla mela verde questo è molto fresco molto limonoso ed è proprio per l'estate e per tutta la famiglia molto molto buono sempre da un litro questa è la novità della campagna di luglio ma si può ordinare in anteprima poi sempre da luglio ci arriva un'altra crema mani all'avocado con questa confezione con questo packaging molto estivo ispirato al pellicano vedete e c'è la crema corpo questa è fighissima perché la potete tenere anche in camera intanto c'è il dispenser e quindi non dovete stare a svitare è molto più igienica e poi c'è il burro cacao sul burro cacao non so se l'ho fatto anche l'altra volta vorrei spendere due paroline perché diciamo che questi qui il burro cacao di solito viene un pochino sottovalutato l'estate soprattutto con il caldo abbiamo bisogno di tenere idratate le labbra io per esempio ce l'ho nel comodino e la sera quando vado a letto al di là della crema viso eccetera metto comunque uno strato consistente di burro cacao proprio tanto come se se lo dovessi sprecare e la mattina non ce l'ho più quindi vuol dire che durante la notte viene tutto assorbito e questo è importante perché comunque noi non ci facciamo caso ma se noi prendiamo magari le vecchie foto nostre ci accorgiamo che le labbra col tempo sono cambiate si sono più assottigliate quindi è importante tenerle nutrite al di là di tutto e anche quella come le mani e il collo fanno vedere le labbra insomma fanno un po' vedere l'età che abbiamo quindi se vogliamo tenercele un po' per noi magari ecco usiamo il burro cacao a proposito di burro cacao ho pensato che come incentivo per i solari ve ne regalo uno ogni due solari che comprate senza problemi offro io tranquillamente e mettiamo via il set col pellicano o il tocano non lo sappiamo comunque la crema è veramente sfiziosa con questa condizione così sempre in tema estivo abbiamo questo pigiama però non lo posso aprire perché poi non lo so ripiegare così ed è per una mia cliente ed è il pigiama tropical balm questo qui viene 20 euro è perfetto per me per esempio perché a me non piace dormire con i pantaloncini anche l'estate questo ha i pantaloni lunghi e la canotta di sopra viene 19,99 ve lo faccio vedere nel catalogo tra l'altro c'è anche abbinato vabbè abbinato mica uno va al mare col costume però c'è abbinato anche sulla stessa fantasia il costume da bagno questo è il pigiama ok qui sopra le bretelline sono libere quindi si possono stringere si devono fare i nodini diciamo quindi si può regolare come lo si vuole e nell'altra pagina invece c'è la diciamo il tankini e il due pezzi sempre qui non è costume da bagno effettivamente ho detto una scemenza è intimo c'è reggiseno e mutandina e poi c'è qui il top e reggiseno a triangolo sfoderato quindi no potete fare la coordinata per andarvene a dormire non andare a dormire perfetto brava Antonella sì sì allora rimanendo sul tema intimo e confidenziale ecco qua una mia cliente ha preso questi reggiseni questi sono per chi non ha eccessivo seno quindi non per tutte però hanno questo incrocio qui davanti e dietro sono come un top da palestra per capirci sono molto comodi costano 11 euro se vi interessa il genere sbrigatevi perché l'altra volta c'era l'altro modello con i gancetti laterali che è andato esaurito in tutte le taglie con un paio di giorni la mia amica l'ha preso anche bianco ve lo faccio vedere nel catalogo perché l'avevo segnato per fa è molto rilassante perché invece di essere la coppa o il gancetto o il ferretto qui praticamente c'è la massima libertà quindi chi magari soffre di sudorazione eccetera eccoli qua nero crema color carne e bianco 11 euro allora un'altra cosa che mi fa piacere farvi vedere parliamo un attimo prima di parlare dei solari vi faccio vedere per esempio adesso non so avete visto che sono riprese un po' le cerimonie se vi dovessero invitare no invitare se vi dovessero dare un pacchetto di confetti per qualche comunione per esempio questo potrebbe essere un regalo molto carino viene 15 euro ed è l'orologio non è Casio ma è simil Casio e praticamente è molto carino per ragazzine oddio anche per noi però è molto sfizioso anche questo può essere una valida alternativa da portarsi al mare se non si vuole sciupare l'orologio più costoso o il Casio originale eccetera questo qui costa 14,99 e c'è anche in fucsia questo l'ho preso per mia figlia però ecco mi è venuta in mente questa cosa che comunque essendo riprese le cerimonie magari se ci sono le comunioni e magari sai del condominio una bambina del condominio fa la comunione ci danno il sacchetto dei confetti questo è un regalo molto carino e sicuramente molto apprezzato perché a volte uno sta lì a scervellarsi invece un orologetto così che adesso questi qui modello Casio sono tornati di moda secondo me può essere molto apprezzato e gradito un'altra cosa simpatica che ho ordinato una mia amica è questo qua praticamente sono due organizzatori da frigorifero due organizer sono due vaschettine che si incastrano nel ripiano del frigorifero e potete così riporre e stivare meglio alcuni prodotti più delicati che ho pensato per esempio il burro oppure quando comprate l'uva che magari si può toccare con le altre cose e si mosciano i chicchi invece così facendo ottenete il frigorifero ordinato e isolate meglio i componenti allora questi qui sono due pezzi e viene 12 euro dal catalogo Avon di questo mese allora siamo arrivati quasi alla fine di questo video che già sono 14 minuti vi faccio vedere per l'ennesima volta i solari l'offerta dei solari allora è arrivato il fenicottero però allora intanto non lo posso gonfiare perché non è mio è di una mia cliente e io l'ho preso anche per me a dirla tutta però non non ho fatto in tempo a gonfiarvelo però è molto grosso e quindi è veramente per tutta la famiglia se lo portate al mare come penso di fare io fra qualche tempo insieme agli altri bambini figli, cugini, nipotini cioè ci si gioca tutti insieme è veramente bello anche per la piscina allora questo qui lo danno a 25 euro con due solari oppure con tre pezzi di solari c'è l'offerta adesso ve la faccio rivedere 27 euro è nell'ultima pagina del catalogo allora questa è la foto e vi ripeto la foto non è indicativa nel senso che è veramente così non è così grande come si vede poi se qualcuno ha il mio numero e mi segue sui social ha visto che ho pubblicato dei video con delle ragazze che l'hanno gonfiato e l'hanno provato è veramente così grosso qui per esempio c'è la protezione 30 3 in 1 che adesso ve la faccio vedere la crema viso protezione 50 e il dopo sole questi tre pezzi più il fenicottero 26 e 99 la crema che vi dicevo è questa qui protezione con un fattore di protezione 30 3 in 1 questa protegge citrata e rinfresca ed è a base di aloe vera quindi questa è proprio diciamo però allora io ti consiglio sempre per esperienza mia di cominciare con questa qua con la protezione 50 per tutta la famiglia e poi dopo magari qualche giorno che uno già si è fatto una piccola base si può utilizzare questa qui quando finiscono quando finisce la vacanza intanto io vi cioè è strano che vi avanzino perché comunque vanno rimesse si dovrebbe mettere sia prima di andare al mare quando ci alziamo la mattina dopo esserci lavati sia poi quando si arriva in spiaggia o in piscina e poi andrebbero rimesse ogni 2-3 ore però se a voi è sufficiente qualche passata in meno e vi restano se le conservate in modo corretto queste qui c'è scritto che praticamente scadono dopo 2 anni dall'apertura poi quello che volete fare fate nel senso se voi preferite ricomprarla ogni anno giustamente che non è sbagliato nemmeno quello anche perché bisogna fare attenzione che non si contaminino con la sabbia eccetera e potete utilizzare tranquillamente come crema corpo fino a che ricomincia il freddo quindi è un acquisto che non va sprecato e per il resto penso che abbiamo finito per oggi scusate se mi dilungo sempre e non basta aspetto i vostri i vostri messaggi le vostre richieste d'ordine e vi ricordo che è fighissimo e divertente lavorare con Avon e quindi se volete provare senza impegno c'è sempre tutto il mio aiuto e il mio supporto contattatemi e lavoriamo insieme ah e non c'è assolutamente nessun investimento iniziale perché è tutto di guadagnato insomma ci potete soltanto guadagnare ciao al prossimo video grazie a tutti